E adesso parliamo di coronavirus in Puglia, via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid in farmacia insieme a quello anti-influenzale. Si partirà il 25 ottobre. Intanto continuano le sospensioni degli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati. Dal 25 ottobre prenderà il via la somministrazione dei vaccini contro il Covid in farmacia insieme alla somministrazione delle dosi di vaccino anti-influenzale. Lo ha annunciato il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, se tutte le farmacie saranno in grado di aderire al protocollo che abbiamo sottoscritto a detto Montanaro e di implementare il sistema informatico che abbiamo già elaborato. I problemi di compatibilità con la piattaforma informatica della Regione che hanno fatto slittare l'avvio della campagna di somministrazione nelle farmacie pugliesi pare siano stati superati. Toccherà al farmacista dunque registrare il vaccino come accade negli hub o dal medico di famiglia. Secondo le stime del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari, Luigi D'Ambrosio Lettieri, saranno 700 i centri che aderiranno all'iniziativa. Il Presidente dei Farmacisti Baresi ha inoltre dichiarato che sarà anche possibile la somministrazione del vaccino contro l'influenza stagionale. Aspettiamo che il protocollo di intesa sia discusso dalla conferenza Stato-Regioni. Lettieri ha rimarcato anche che siamo sempre in emergenza e che le regole e i limiti stabiliti, seppur allentati, vanno comunque osservati. Va ricordato che la prenotazione può essere effettuata attraverso il numero verde 800 713 931, le stesse farmacie o il sito internet della Regione lapugliativaccina.regione.puglia.it. E intanto continuano le sospensioni degli operatori sanitari non vaccinati. Dopo i primi provvedimenti adottati nei giorni scorsi per 11 dipendenti Novax, la ASL di Bari ha infatti stabilito l'interruzione dall'attività lavorativa per altri 57 operatori sanitari che hanno rifiutato di vaccinarsi o che non hanno risposto ai ripetuti inviti da parte dell'azienda. Nella stessa direzione va anche quello adottato dall'Ordine dei Medici della provincia di Brindisi che ha sospeso 8 medici perché non hanno aderito alla campagna di immunizzazione contro il coronavirus. Si tratta di liberi professionisti che esercitavano in strutture private. Infine sul fronte dei contagi in Puglia sono 86 quelli accertati oggi. Secondo i dati Covid del bollettino della Regione si registra una persona deceduta. I nuovi casi sono stati individuati su 12.977 tamponi e sono stati così distribuiti in ciascuna provincia. 15 a Bari, 4 nella provincia Barletta-Andreatrani, 1 a Brindisi, 21 a Foggia, 19 a Lecce e 22 a Taranto.